Questo è il periodo delle presentazioni e delle stagioni estive. Se da una parte molti comuni puntano su nomi di cantanti il successo, c'è invece chi torna alla tradizione. Dopo il grande successo dell'edizione 2001, anche quest'anno il Comune del Visolo Superiore, in collaborazione con l'Associazione dei Commercianti e Visolesi Uve Giupunte, organizza per venerdì 5 e sabato 6 luglio Arbicorra Civesiure, anno 9 di 1227, una di due serate medievali ispirata ad un autentico quadro storico, risalente all'anno proprio 1227. Molto spesso associazioni nazionali, possiamo chiamarle di beneficenza, sono parte integrante delle nostre manifestazioni per raccogliere fondi. Ma non solo tradizione, ecco gli altri fondamenti. Poi invece per quanto riguarda le manifestazioni sportive, ci saranno delle manifestazioni di rowing e di spinning, organizzate a livello nazionale, e questa è la comunicazione già avanti e abbiamo già le partecipazioni che arrivano da tutta Italia. Poi invece per quanto riguarda la parte musicale, avremo un concerto dell'Equipe 84, un concerto jazz, che sarà poi quello del Ferragosto, col Trio Dall'Omo, che è già noto a livello nazionale e anche internazionale. E poi una festa, cioè di fine estate, conclusiva, che abbinerà jazz, vari stili musicali, che sarà una festa della birra. Grazie.